Siamo con Stefano Albano, ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni amministrative dell'Aquila 2017. Lei è candidato capolista nel Partito Democratico. Abbiamo parlato di due proposte da futuro consigliere, se riuscirà a essere eletto. Abbiamo altre due proposte di che si tratta? Sono due proposte che hanno sempre gli stessi punti di forza delle altre due di cui vi ho parlato nella scorsa intervista. I due pregi sono che sono proposte a costo zero per l'ente e per le tasche degli aquilani. Il secondo è che non necessitano di invenzioni o di straordinari e clamorosi stanziamenti di risorse dal governo, ma si ottengono valorizzando l'esistente, cioè valorizzando le risorse che sono già a disposizione della nostra città. Nel concreto, sull'università, il nostro Ateneo è sempre stato uno dei motori economici principali della nostra città. È in un momento chiaramente difficile, si rischia un calo di immatricolazioni, noi dobbiamo poterlo difendere. Come possiamo fare concretamente a fare in modo che la nostra università torni a essere con più forza un attrattore di studenti? L'idea è di sfruttare ciò che già abbiamo, e cioè gli appalti per la ricostruzione. Facciamo in modo che d'ora in poi l'1% delle risorse degli appalti per la ricostruzione vada ad un fondo che gestisce l'università per fare borse di studio e stage di formazione pre-post-laurea. Perché queste due cose? Perché io immagino una campagna di marketing che possa fare la nostra università in giro per l'Italia dicendo, cari fuorisede d'Italia, venite a studiare qui all'Aquila. Perché grazie a questo meccanismo, con il fatto che abbiamo tanti appalti, avremo tante borse di studio, quindi potreste rientrarci. Ma contemporaneamente, e qui secondo me sta l'idea forte, se venite da noi mentre fate il percorso di laurea, vi facciamo fare esperienze che vi fanno curriculum. Sei uno studente di fisica? Non esiste che non metti piede per sbaglio neanche una volta dentro i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. Sei uno studente di chimica, di biotecnologie. Noi abbiamo Don Pè Menarini, un cluster chimico-farmaceutico di imprese importanti. Ti mandiamo lì a formarti. Financo le lauree umanistiche, scienze della comunicazione, lettere. Noi abbiamo Maratona Jazz, Perdonanza, Notte dei ricercatori, Festival della montagna. Perché ai professionisti che costruiscono e promuovono questi eventi non possiamo affiancare degli studenti selezionati dalla nostra università. Queste esperienze formative hanno un costo, le paghiamo così. Anche perché è un modo per smetterla di assistere alla sfilata di imprese che sono venute da fuori a lavorare sulla ricostruzione e non hanno lasciato nulla sul territorio, perfino in termini di assunzione occupazionale. Ecco, quantomeno gli chiediamo un investimento sui talenti della città. La cosa importante è questa. Come la realizziamo? Allora, sulla ricostruzione privata, io non posso imporre io comune a un cittadino, di dire alla ditta che gli fa i lavori a casa destina questo 1%. Posso fare una campagna di sensibilizzazione come città, come comune, una campagna etica, ma invece per quanto riguarda la ricostruzione pubblica noi lo possiamo scrivere nella gara d'appalto. Lo possiamo scrivere nei requisiti d'accesso in collaborazione con il provveditorato alle opere pubbliche. Ciò significa che l'impresa che partecipa alla gara per ricostruire l'aggregato X sa già che in caso di vittoria della gara d'appalto dovrà destinare queste risorse per questo fondo. Questa è una proposta concreta che si può attuare anche in tempi relativamente brevi. Anche perché la ricostruzione pubblica è quella dove c'è rimasto di più da fare, insomma. È la ricostruzione, sarà la mole degli appalti per i prossimi anni, quindi si tratta di un strumento vero e straordinario per provare a trarre qui gli studenti. L'altra proposta... Veniamo alla seconda proposta. L'altra proposta invece è un mio vecchio pallino e riguarda l'istituzione dell'Aquila Abruzzo Film Commission. Che cos'è una film commission? Film commission è uno strumento di cui enti, regioni, comuni di diversa tipologia in Italia possono dotarsi. Ormai in diverse realtà d'Italia ci sono già film commission molto funzionanti. Di cosa si occupano queste strutture? Di attrarre sul territorio produzioni di film o fiction e contemporaneamente promuovere il territorio fuori dai propri confini. Faccio degli esempi concreti. 15 anni fa in Umbria hanno un terremoto, decidono di fondare l'Umbria Film Commission concentrandosi sulle fiction e immaginando dei meccanismi di sgravi fiscali, cioè facendo pagare meno tasse a coloro che andavano a costruire film e fiction lì. Fatto sta che sono 15 anni e le fiction si fanno tutte lì, Carabinieri, Don Matteo. Stesso esempio in Basilicata. Rocco Papaleo decide di fondare la Basilicata Film Commission, prima produzione Basilicata cost to cost, che chi ha visto il film sa che è più un espediente per far vedere i paesaggi della Basilicata da una costa all'altra. Ebbene, la cosa interessante è che l'anno seguente c'è stato un incremento sensibile del turismo in Basilicata. Insomma, sono strumenti concreti. La Film Commission è una struttura che si occupa di snellire la burocrazia, di rendere attraente, quindi di incentivare a venire i produttori qui, con tutto l'indotto economico che ne deriva, perché la costruzione di un set significa che per le attività commerciali c'è anche uno straordinario ritorno, ma soprattutto c'è un ritorno in termini di immagine. Purtroppo dal 18 gennaio, le scosse, Ricopiano, l'immagine che c'è dell'Aquila e dell'Abruzzo è l'immagine di un territorio che non è attraente. Se noi vogliamo provare a rilanciarlo, questo può essere uno strumento vero. Quindi una struttura che da una parte sostenga tutto il comparto culturale, perché nella nostra città la cultura può essere un'industria, contemporaneamente una struttura che si occupa di promuovere all'iello turistico il nostro territorio nei circuiti nazionali, europei e perché no anche globali. Ringraziamo Stefano Albano, in bocca al lupo a questo punto. Crepi il lupo, grazie a tutti voi.